Abbiamo messo in sicurezza i clienti, abbiamo messo in sicurezza lo staff e poi capiremo la montata dei danni. Una vacanza finita in tutta fretta per i 450 turisti che avevano scelto settembre per trascorrere le vacanze sulla costa adriatica, al Natural Village di Potenza Picena, da ieri sommerso dalla pioggia caduta in poche ore. Un fiume d'acqua che dalla collina soprastante si è riversato sul campeggio, complice anche la mareggiata che ha reso difficile il deflusso. Alcuni dei clienti sono partiti nelle scorse ore, altri in mattinata e ora non resta per questa stagione che verificare i danni. Abbiamo appena finito un ristorante nuovo, chalet ristrutturati, poi faremo la conta. A Porto Recanati un'altra giornata pesante dopo 24 ore di pioggia che avevano già creato criticità a macchia di leopardo. Difficile la situazione a scossicci per piogge e mareggiate, garage allagati in altri quartieri della città. Dalla notte un'unità mobile dei vigili del fuoco sta presidiando l'intero territorio con l'ausilio di squadre dalla Toscana e della Protezione Civile in un contesto in continua evoluzione e che fino a che l'emergenza non sarà terminata costringe a stare con il fiato sospeso mentre il primo cittadino non nasconde una punta di polemica per il mancato allarme di ieri. Ci ha colto assolutamente di sorpresa e quindi rimettere in mano e in moto tutta la macchina organizzativa è stato problematico. A Civitanova il risveglio è stato meno critico del giorno precedente ma in uno scenario che ha rivelato in tutta la sua gravità le conseguenze di 24 ore particolarmente pesanti con l'acqua ancora presente in un condominio nei pressi del Fosso Trabocco e strade da riparare dopo i danni provocati da pioggia e allagamenti. E mentre si guarda al cielo sperando che la pioggia smetta di cadere il monitoraggio resta costante.